Il centro di accoglienza di Lampedusa è stato svuotato. Tutti i migranti che lo occupavano fino a ieri sera sono stati infatti trasferiti a bordo della nave inviata dal Governo nazionale, su richiesta del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, è arrivata una seconda nave per l'accoglienza ed è previsto inoltre l'arrivo di una terza unità navale. I migranti che sbarcheranno da adesso in poi sull'isola saranno infatti accompagnati al centro di accoglienza per le sole visite mediche e per l'identificazione, quindi saranno trasferiti a bordo di una delle navi che stazionerà nel mare di Lampedusa. All'interno del centro di accoglienza saranno effettuati interventi per adeguare la struttura alle norme sanitarie legate all'emergenza Covid-19 e sarà inoltre installata una nuova recinzione esterna. Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno istituito una task force interministeriale per fronteggiare l'emergenza migranti. La realizzazione di tali interventi, spiega il Ministero dell'Interno, è legata alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 che impone l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali per i profili igienico-sanitari. In tale contesto dunque la task force ministeriale opererà degli interventi secondo un cronoprogramma ben preciso, che comunque assicurerà priorità all'hotspot di Lampedusa, dove sono in corso di ultimazione le operazioni di svuotamento. Finalmente a Lampedusa la situazione sta tornando alla normalità, ha aggiunto il sindaco Totò Martello.